Benvenuto nel mio canale di cucina oggi preparerò degli involtini di zucchine prendete 5 zucchine, lavatele e tagliatele a pettine dopodiché, grigliatele sopra la piastra dopo aver grigliato le zucchine, lasciatele raffreddare farcite le zucchine con la fontina e il prosciutto e poi arrotolatele queste le ho farcite con fontina e pollo dopo aver preparato tutti gli involtini passateli nel pan grattato e disponeteli in una teglia ricoperta da carta da forno dopodiché, cospargeteli con del parmigiano reggiano irrorate con un filo d'olio e cuocete a forno caldo a 180 gradi per 15 minuti non sono appetitosi, ho un certo languorino e voi? mettete tanti like se vi è piaciuta questa ricetta se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale di cucina vi aspetto alla mia prossima video ricetta ciao ciao da Gianni